Oh! San Giovanni Leonardi! Testimone vivo di supremo carità! E di totale accoglienza del disegno di Dio! Al punto che ben potevi ripetere con San Paolo! Che la tua vita era Cristo e che Egli viveva in te! Intercedi per noi! Dal Padre dei Lumi! La Divina Sapienza di saper leggere! In tutte e pagine della nostra quotidiana esperienza! Anche in quelle più difficili! E dolorose i tratti! E i segni di un provvidenziale progetto di amore! Pensato dall'eternità! Tu che non hai esitato di fronte alla denuncia profetica dell'errore! E offristi tutta una vita! Perché l'uomo recuperasse in Cristo la sua piena statura! Fa che! Ci sia concesso il dono della verità! Che ci fa disponibili al cammino di continua revisione del nostro essere! E del nostro operare per renderlo ogni giorno! Più conforme all'immagine del Figlio! Il tuo essere Chiesa! Si espresse soprattutto nell'urgenza dell'annuncio! Dalla catechesi ai fanciulli! Alla riforma di anime consacrate! Dalla progettazione di una vasta e rinnovata missionarietà! Fino al vivo linguaggio di una intera esistenza! Votata alla più radicale scelta evangelica! Ottieni a noi tutti! La grazia efficace di sperimentare il nostro battesimo! Come testimonianza coerente di una fede da vivere! E partecipare, in unione con i fratelli! Perché si realizzi la plenezza dell'amore nella casa dell'unico Padre! Per Cristo nostro Signore! Amen!